Mario Cercacci è stato il fondatore della Vista Aurelia Cercacci più di 50 anni fa e dopo la sua morte è stato fatto questo torneo che storicamente ha portato sempre belle squadre qui e quest'anno sfruttando anche il nuovo campo sintetico abbiamo riorganizzato tramite il torneo che sia degno del nome che porta quindi noi chiaramente le abbiamo fatte tutte le edizioni che sono 33. L'area che si respira è quella delle grandi competizioni comunque ci sono tutte squadre importanti quindi fa respirare anche ai ragazzi e ai nostri tesserati un'area così importante e ci avvicina un po' a quello che è il progetto della Vista Aurelia quindi di riportare questa società laddove merita e laddove è stata anche nel passato. Sicuramente la nostra realtà è comunque un punto di riferimento per tutti i ragazzi del quartiere come è stato in passato e come si predige di essere nel futuro. Sicuramente noi ci predigiamo di dare professionalità ai ragazzi e comunque siamo accompagnati ormai da sei anni dalla famiglia del Torino e siamo diventati quest'anno un centro di formazione questo sicuramente ci aiuta per dare sicuramente mezzi sia 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 mezzi tecnici che anche sotto il profilo dell'organizzazione e anche della professionale dei mister comunque venendo loro ogni mese con i loro tecnici diciamo fanno una formazione sia a loro sia ai ragazzi questo comunque ci sta facendo crescere il Vista Aurelia punta negli anni di riprendere tutte le categorie elite come come aveva come aveva avuto già in passato e quindi diciamo che quest'anno abbiamo fatto il top del campo nuovo sono state messe le telecamere di my social player su tutti i campi quindi diciamo che questo è per la società un anno zero da dove ripartire e rimetterci nel posto dove insomma dove meritiamo di stare un saluto a tutti e un in bocca al lupo a tutti per questo bellissimo torneo vi aspettiamo qui da noi al Vista Aurelia insieme a my social player ci vediamo il 6 giugno su my social player ciao a tutti